Io ho detto un taglio del 60%, ma non perché con quelli tu vai a risolvere i problemi, perché a parte il segnale ci deve essere una sorta di dignità e rispetto, rispetto a quelle masse alle quali si dice avete perso il lavoro, vi capisco che non avete la sanità, lo capisco che siete disabili e non abbiamo i fondi per aiutarvi, con loro non puoi andare a parlare dall'atto di prebende così importanti, io mi sentirei in grande difficoltà, quindi il 60% può essere sicuramente buttato su altre cose, magari minime, ma il segnale lo dai chiaramente, partendo anche da un altro presupposto, che quando sui sindaci è stato riconosciuto un cosino in più, non è proprio tanto un cosino, tanto è vero che Castrataro la prima cosa che ha fatto, come ha sentito questo provvedimento governativo, subito hanno attivato il meccanismo perché poi nel giro di un po' di tempo si arrivava al massimo, che non è proprio pochino. Ma va da sì che personalmente sarò sempre su questo tema, ma lo sapete, lottando per gli ultimi.